i due topi la volpe e l'uovo Sermone alla signora della Sablier A me facile seria tesser di lodi, un certo al vostro nome, iride e bella, se voi di lode e di profano incenso non foste disdegnosa, inciò lontana dall'altre belle cui giammai non sazia cibo quotidian di freschi onori. Non vidio mai le donne al dolce suono delle lodi cullate addormentarsi, né le biasimo perciò. Ben le somiglio, invece, ai preci della terra e ai numi, quel nettare che ognor fu dai poeti lodato e che la tazza è in piedi giove, e del quale si inebriano i potenti dei della terra, e questa a voi non grada lode, o gentil e così grata al tuoi. Altre gioie compensano la vostra ambizione, e sono colloqui e dolci amicizie e incontri, e cento e cento argomenti graziosi in cui si piace il vostro spirito, al profano volgo ignoti. Scherzi, dottrina, fantasie, non nulla, tutto scende opportuno e fa smaltato come un prato di flora il parla al vostro, inciò simile all'ape industriosa che si riposa sui diversi fiori ed è ugualmente trae da tutti il miele. Non vi spiaccia se anch'io, dietro l'esempio, vado meschiando alle innocenti fiabe un rigo di sottil filosofia, oggi di moda, molto ardita e piena di una nuova attrattiva. O forse un suono ne venne al vostro orecchio? È la profonda dottrina che è una macchina riduce la vita umana e che d'arbitrio sfronde di giudizio gli uomini e non lascia che un corpo vuoto senza affetto e cuore, tal sen vive, e con passo ugual ma cieco e senza scopo l'Oriol cammina, di ruota in ruota finché squilla l'ora, come vuole il congegno. A ciò la scienza lo spirito del mondo oggi riduce e come l'Oriol dicono i saggi l'animale si commuove e va diritto o ve lo spinge l'impressione del senso, non per libero arbitrio, oibò, ma tratto dalla necessità dura e impassibile che senza voglia per i diversi stati dell'amor lo trascina e dell'affanno, della tristezza, del piacer, dei forti dolori e per le varie altre vicende che affettichiamo alla volgar sentenza. Ma voi, gentil, fra l'Oriolo e il vostro cuore assain ben distinguere sapete e non vi allaccia dei moderni sofi la facile dottrina. A noi maestro è il divino Cartesio a cui gli antichi, siccome annume Avrian sagrata un'ara, Cartesio che fra gli uomini e i celesti siede nel mezzo, come stanno in mezzo tra gli uomini e gli allocchi altri sublimi e grossi ingegni. A voi così ragiona quest'alto mio maestro e mio autore. Soltanto l'uomo fra tutti gli animali che dalla mano uscirono di Dio pensa e sa di pensare. Abbiano i bruti immagini e pensieri, ma non avranno l'arte che spiega sul pensiero stesso e sugli oggetti del pensiero il raggio. Ma Cartesio dirà con viso aperto che tutto è spento del pensiero il lume negli animali e conveniamo con esso sebbè non manchi in numerosi esempi a provare il contrario. E non vediamo nei boschi il vecchio cervo a cui sul capo cresce per gli anni altissima la selva. Quando ferve la caccia e suona il bosco d'urle e di corni e va sbandato il gregge spingono in bocca gli anelanti cani un giovane cerbiatto onde sviata sia la caccia da sé vedi malizia per salvar la pelle e i mille giri e salti e sotterfuggi e non son dessi stratagemmi di guerra e non indegni di un grande capitano e di fortuna più gloriosa ahimè viene la morte ed è lo strazio delle palpitanti carni agli eroi l'estremo funerale così se vedi i piccoli in periglio la pernice e collali tenerelli impotenti a fuggir finge pietosa ad essere ferita e trascinando l'ala sul suol attire i cani e cacciatori sviandoli finché dei figlioletti si esalva la famiglia indi a un tratto spiccando il vol addio ride e saluta l'uomo che col guardo inutilmente spia nella region del polo gli abitanti selvatici ignoranti vivono ancora coi modi rozzi e semplici dei tempi primitivi ma gli animali che in dimora nevi sono ingegnosi e sanno con argini frenar l'acqua e correnti e corlegar le rive dei torrenti questi edifici in cui si alterna il legno a strati di cemento ponno all'acqua resiste ed al vento ogni castor con naturale ingegno ivi si presta alla comune impresa i vecchi ed i maestri attenti all'opera e giovani più destri all'opera alla difesa in paragon di questo anfibio senno di Platon la repubblica famosa è al viver bene un picciol cenno le case alte e palustri questi animali industri elevano l'inverno e ponti fanno con l'arte lor che gli uomini non hanno non sanno in ver quei rozzi samoyedi che traversare al nuoto dove per l'acqua non si passa a piedi ma a rimirare l'industria di lavoro di queste bestie ah non si può no credere che manchi dello spirito al castoro ma c'è di più signora e ciò che ho conto l'udir narrar da un re da un re del nord figliuol della vittoria di cui forse non c'è baluardo maggiore contro il pagano indomito ottomano sobieschi io dico onor della polonia e parola di re degna e di storia vivo in certi animali egli mi disse da vecchio tempo in sanguinose risse sempre far lor che della guerra il fuoco da padre in figlio insieme col sangue ispirano son bestie e volpine che della guerra il gioco conoscono si bene e la faccenda che non ne sanno gli uomini altrettanto per quanto abbiano il vanto e special tempo nostro e l'arti fine di saper ben uccidersi a vicenda avanguardie spioni sentinelle imboscate conoscono ed insidie e tutte quante della strategia le più maligne furbe maccatelle arte infernale e ria che degli eroi fu madre e fia creduta figlia del demonio di queste bestie a celebrarle squadre non basterebbe se tornasse Omero dall'Acheronte Nero o se tornasse e seco anche tornasse Cartesio d'epicuro alto olivale a contemplare queste vicende e giochi che dietro al solo istinto naturale si accompia l'animale a noi dimostra l'esperienza nostra e la natura che la memoria al corpo si collega e questo in ogni caso il brutto impiega per norma e per misura iride e bella se a cercare vi piace voi troverete che il pensiero discopre spesso come un rinchiuso magazzino altri pensieri in mente accumulati e che un oggetto ove discenda e tocchi un'idea le altre tutte ecco si svegliano e balzano da sé senza il bisogno che le guidi il pensier questo è l'istinto ma l'uomo ha pure volontà che impera io parlo io rido io muovo ambo le gambe io sento in me lo spirito che regge e che del corpo apre i congini e chiude sento un poter dal corpo mio distinto che se stesso comprende anzi comprende più che non la macchina mortale alla quale comando arbitro e duce or se voi mi chiedete iride bella come sia non lo so vedo l'ordigno obbedir a una man ma non ritrovo la man che muove il sole e l'altra stelle forse uno spirito angelico si posa a queste immense moli ed è lo spirito stesso onde vive palpita e si muove il mortale qua giù misteriosa forza malnota anche a cartesio in questo campo siamo tutti ciechi e solamente palese all'uomo se la cerca in dio a me basta signora sapere che questo spirito in corpo agli animali non dimora è l'uomo il singolare e sacro altare in tutto l'universo sta ben ma di converso attanta l'animal vitalità che l'albero non ha andavano due topi per il pranzo quando trovano un uovo sulla via un uovo basta ai topi che non potrebbero divorare un manzo e pieni di appetito e di allegria stanno per osicchiar ciascuno l'uovo dalla sua parte quando arriva un terzo incomodo la volpe come salvar e ripararne il covo quell'uovo benedetto farne un pacchetto prenderlo portarlo girarlo trascinarlo sta bene è presto detto ma poi vi aspetta a farlo che fanno i topi mentre ancora la triste feroce camorrista era lontana per guadagnare la tana l'undessi sulla schiena si sdraiò e l'uovo strinse in un soave amplesso e dopo un po' d'affanno per la coda dal secondo lo tirò or voi ditemi adesso che queste bestie spirito non hanno ed hanno forse più coscienza essendo i fanciulli nei loro anni più belli o non vedian che pensano e non sanno pur di pensar o un dio sarei condotto a immaginarne i bruti ove non possa supporre una ragion più che un istinto per me distilerei qualche sottile sostanza assai difficile signora a concepirsi dalla mente umana un'essenza di monadi un estratto di luce pura un non so che più vivo più rapido del fuoco se dal tronco nasce la fiamma e non potrei la fiamma chiarificata ancora dare un'idea dell'anima immortal e non si vede splendere l'or tra le viscere del piombo con queste essenze io renderei la bestia atta molto a sentire e un poco ancora a giudicare ma non di più ne sempre questo giudizio in lei come dimostra la più dotta bertuccia è a fil di piombo all'uomo all'uomo solo io la potente forza darei che da ragion deriva due volte sei preziosa ove la guardi sotto duplice aspetto evvi nell'uomo un'anima comune a tutti quanti sia pazzi o savi sia fanciulli o vecchi tutti animali graziosi e benigni che con tal nome sono ospiti in terra ed evvi una seconda anima santa nata a creare l'angelica farfalla un divino tesor che Dio dispensa con parsimonia e che ci porta in cielo tra le sfere rotanti entra e si snoda senza angustia quest'anima nei corpi e per quanto principi ebba nel tempo eterna vive e non mi sembra assurdo finché in questa del ciel candida figlia danza nel corpo donerello è l'ume che poco spande di sua luce intorno ma quando è la ragion forte al giudizio entra questo divino raggio di mente per l'universo e la materia penetra che sempre coinvolgerà l'altra più rude anima sensual serva a natura fine della favola i due topi la volpe e l'uovo questa registrazione è di dominio pubblico grazie a tutti